Gentili telespettatori, buona giornata. E così Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, dice che Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha rifilato due fregature agli italiani. Quali sarebbero queste due fregature? Andiamo a vedere. Allora, dice un salvacasa che di fatto maschera un condono e addirittura in pratica disattiva anche le norme antisismiche. E poi da ultimo c'è anche il decreto sulla sanità che non mette un euro per saltare le file, le liste di attesa. Quindi di fatto lascia gli italiani con file lunghissime nel pronto soccorso e per le visite. Anche per questo noi stiamo raccogliendo le firme per cercare di falsaltare questa riforma dell'autonomia differenziata che peggiorerà ulteriormente la situazione già degradata della sanità. E lo dice arrivando all'evento della scuola di formazione del partito Autonomia differenziata referendum. Quindi hanno proprio un titolo Autonomia differenziata referendum. Allora, dice tre cose. Partiamo dall'ultima. Partiamo dall'autonomia differenziata che farebbe peggiorare la situazione nella sanità. È una bufala. Non è vero. Allora, io sono il primo critico dell'autonomia come campanello per vedere se veramente il governo vuole fare una secessione economica del nord e dal sud. Però, andando a guardare la riforma, la riforma per passare intanto deve fare i referendum, eccetera, eccetera. Ammesso e non concesso che la riforma passi, la riforma costituzionale dell'autonomia differenziata, che cosa comporta? Che per cominciare ad essere effettiva deve prima garantire i LEP, livelli minimi in tutta Italia in sanità, trasporti e scuola. Cosa vuol dire? Che l'autonomia differenziata per entrare in vigore deve prima garantire questi livelli minimi. Cioè, prendiamo ad esempio la Sicilia e la Calabria, lì la sanità e i trasporti devono arrivare a livello sufficiente. Oggi non sono a livello sufficiente, quindi ci devono essere treni, trasporti all'interno della regione sufficienti. Ci deve essere una sanità sufficiente, ci deve essere una scuola organizzata in maniera sufficiente. Per arrivare a questa sufficienza, che andrebbe a fare qualcosa di diversa da quella che dice Conte, andrebbe a ridurre la distanza tra nord e sud, ci vogliono almeno 170 miliardi secondo gli studi, da 170 miliardi in su. Ecco, quindi l'autonomia differenziata non spacca l'Italia, anzi diminuirebbe le differenze tra nord e sud. Ma ci vogliono talmente tanti soldi che non si farà mai. Non ci sono i soldi oggi, né domani, né dopodomani, quindi l'autonomia differenziata, per come la vedo io, proprio per un problema economico per il raggiungimento dei LEP, non si farà mai. Se si dovesse fare piccola percentuale, comunque andrebbe a diminuire le differenze tra nord e sud. Quindi al contrario di quella che è la propaganda di Giuseppe Conte, che lo sa anche lui, è propaganda. Propaganda per tirar su un po' di elettori. Andiamo poi alle altre due cose. Il salva casa è un condono. È certo che è un condono. La chiamano sanatoria. Serve per tutti quelli che negli anni hanno fatto dei piccoli abusi edilizi, verande, hanno tirato giù il muro, non hanno chiesto i permessi, le autorizzazioni, non hanno pagato, non hanno fatto, eccetera, eccetera. Quello che viene chiamato il salva casa in realtà è salva proprietari delle case dove sono stati fatti degli abusi edilizi. Questo è il nome completo. Il salva casa è salva i proprietari delle case che hanno fatto nei decenni abusi edilizi e non riescono più a vendere la loro casa. Chiaro che cos'è il salva casa. Quindi Giuseppe Conte non è andato troppo lontano dalla verità sul famoso salva casa. Che è insomma salva casa, paci fiscali. Tutte queste robe di Salvini alla fine sono tutti dei condoni delle sanatorie a tutti i furbi italiani che non hanno pagato, non hanno visto la legge, si sono dimenticati di dire al comune. Ecco, quindi sul salva casa è così. Decreto sanità che non mette un euro per saltare le file. Allora, è stato fatto il decreto sanità dove si dice che i medici potranno, se vogliono, lavorare il sabato e domenica per diminuire le file d'attesa, lavorando il sabato e domenica avrebbero una tassazione forfettaria solo del 15%, e non magari del 43 e del 35, e poi se tu superi i quattro mesi nelle visite e ti mandano nella sanità privata e il conto lo paga lo Stato, questo dovrebbe servire per andare nella direzione giusta nel diminuire le liste di attesa. Il punto però è questo, che come dice Giuseppe Conte, non sono stati messi i soldi. Allora, viene detto, adesso i medici li facciamo lavorare in maniera opzionale il sabato e domenica, ma chi paga gli straordinari ai medici? Li dovrebbero pagare le regioni? I soldi non ci sono. Ecco, chi paga le visite negli ospedali privati di quelli che superano i quattro mesi nel pubblico? Chi le paga? Non si sa. I soldi? Non ci sono. Nella legge ci sono soldi? No. C'è solo detto che se superi i quattro mesi vai nella clinica privata, se tu un medico vuoi puoi lavorare il sabato e domenica e paghi solo il 15% di tasse su quelle parcelle per le liste d'attesa, per gli straordinari, non per le parcelle, per gli straordinari, lì non c'è parcella perché sei dipendente dello Stato. Quindi Conte dice che il decreto sulla sanità non mette un euro per saltare le file. È vero, non c'è un euro per saltare le file. Poi magari la Meloni fra qualche giorno dice ci ho messo due miliardi, ma in realtà sti soldi non sono stati messi. Quindi sta legge fatta pochi giorni prima delle europee, che sembrava tanto una legge a calappi elettori, propaganda, è stata confermata dopo le elezioni, però è stata confermata di nuovo senza soldi. E l'accusa delle opposizioni è dove stanno i soldi, gli soldi dove sono? E non ci sono. Quindi sull'autonomia differenziata Conte si sbaglia. Per quanto riguarda il salvacasa dicendo che un condono è vero, sul decreto sulla salute che dice dove sono i soldi è vero, non possiamo negare che sul decreto sanità non ci sono i soldi, e non possiamo negare che il famoso salvacasa significa salva il proprietario della casa che negli anni ha fatto degli abusi edilizi e non riesce più a vendere la casa. Questa è la realtà, inutile girarci intorno, inutile fare i tifosi, perché non serve assolutamente a nulla. Grazie a tutti e arrivederci a presto.